ciao amici e amiche stranger sails eccoci qua allora explorers of the course island trofeo architetto allora ragazzi dovete andare qui e comprare per fare questo trofeo non serve comprare tutto allora il campetto il primo barile d'acqua scorciatoia spiaggia secondo barile acqua ampliamento fattoria piccolo scorciatoia campo orientale ampliamento fattoria grande scorciatoia vestros van capanna personale piccola molo di fritz scorciatoia relitto scorciatoia piramide ampliamento fattoria enorme servono solo ed esclusivamente questi 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 potenziamenti per ottenere il trofeo architetto in stranger sails quindi andate qui ricompense e comprate questi cose che vi ho detto per avere il trofeo architetto ciao ragazzi da marco della sghiera seguito il mio canale per tutte 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 le novità e anche il video tutorial e video trofi hunter ciao ragazzi dei trofei video dei trofei ciao alla prossima iscrivetevi al canale youtube seguitemi e iscrivetevi anche il mio canale twitch ea tutti i social social facebook instagram tiktok twitch e disco ciao